Buonasera a tutti, diamo inizio la conferenza stampa, vi prego di presentare voi la vostra testata, iniziamo qui davanti, grazie. Buonasera, signora Calcio News, le chiedo, fase difensiva e offensiva perfette, qualche problemino a centrocampo, forse è stato quello lì un pochino il cedimento nella fase finale della partita, grazie. C'è stato anche la Fiorentina, al primo tempo abbiamo spesso molto, potevamo fare raddoppiare, al secondo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni favorevoli a campo aperto, lo abbiamo sbagliato, sicuramente potevamo fare meglio l'ultima mezz'ora, però c'è anche una squadra come la Fiorentina che è un'ottima squadra, tecnica, abbiamo subito due o tre situazioni dove potevamo subire il pari, però quando c'è questa voglia, questo spirito con l'obiettivo del risultato, le cose ti vanno anche bene. Buonasera, mister Luca Cavallero, Tienvo Redio, volevo chiederle se in generale percepisce che Cesni sia un portiere eccessivamente sottovalutato in campo europeo e visto che ha allenato tanti leader, che tipo di leader è Cesni? Grazie. Cesni è cresciuto molto, non so se perché sta diventando vecchio, però è un portiere straordinario e sicuramente in questo momento della squadra, anche se parla poco, ma parla bene e soprattutto poi in campo dimostra di essere uno dei primi portieri che ci sono in Europa. Salve, mister Giorgio Musso di Cascimercato.it. Lei ieri ha parlato del distacco in classifica con l'Inter, qual è l'aspetto che deve migliorare la Juventus l'anno prossimo per colmare il gap sia con l'Inter che evidentemente anche con il Milan? Grazie. Innanzitutto cerchiamo di arrivare in fondo al campionato nel migliore dei modi, cercando di centrare gli obiettivi per cui in questo momento siamo in corsa, che sono uno un posto in Champions e l'altro cercando di arrivare in finale di Coppa Italia. Poi dopo, una volta finita la stagione, faremo le valutazioni. Buonasera, Emanuele Gamma Repubblica. Guardavo le statistiche, Locatelli ha toccato 21 palloni, il regista della Juve l'ha toccati meno di quanti in generale, ne tocca un centravanti che sta fuori dal gioco. Cosa significa? Significa che lavoreremo per farli ne toccare di più. Antonio Polino, Radio Bianconera. Tu hai riconosciuto i meriti anche dell'avversaria? Arrivavate entrambe dalla Coppa Italia. Ti chiedo, però non ti sembra troppo una Juve diversa tra il primo e il secondo tempo o tra il secondo tempo e il primo di altre partite? Cioè una Juve a due facce? Eh, perché ci sono anche gli avversari, un'ottima squadra. Abbiamo speso molto il primo tempo, abbiamo cercato il secondo tempo di continuare, ma sapevo che non era facile. È normale che quando poi vai in contropiede a campo aperto devi cercare di fare 2-0, come potevano fare il primo tempo. Poi c'è il ritorno dell'avversario e lì abbiamo rischiato di capitolare. È stato molto bravo Szczesny a fare una parata straordinaria in un paio di situazioni dove potevamo subire il pari. Però abbiamo cercato di ripetersi il primo tempo, ma non era facile perché comunque abbiamo speso molto. Salve mister, Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola. Chiesa e Vlaovic non riescono a segnare alla Fiorentina? È solo una coincidenza? Eh sì, stasera Vlaovic l'ha segnato, l'ho tolto perché McKennie aveva mezzo piede in fuorigioco. Chiesa stasera ha giocato e non stava benissimo perché aveva un problema sul guatricipide. Quindi direi che tutta la scuola ha fatto bene. Sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi perché comunque vogliono tutti questo obiettivo di riportare e di far giocare la Juventus in Champions. E questo sarebbe un bellissimo traguardo. Francesco Pellino, Agenziara. Mister, le volevo chiedere solo della sostituzione Kostic e Ealing Junior. Kostic riusciva a tenere meglio Nico Gonzalez rispetto a Ealing? Sì, però avevo giocato anche martedì, avevo giocato tutta la partita e oggi togliendo Chiesa che non stava benissimo per non bruciarmi un blocco e un cambio ho cercato di mettere subito Ealing. Comunque è uno che quando è entrato ha una gamba fresca, una gamba diversa. Comunque Kostic sta facendo una buona partita. Bene, non vedo altre domande. Grazie. Buonanotte, grazie a tutti. Grazie.